Da Conte a Draghi, nella gestione della pandemia e nella campagna vaccinale c'è stato questo cambio di passo? Anche perché lei pensa che il governo Draghi stia commettendo molti errori per debolezza. Quali e a che cosa sta pensando? La debolezza è intrinseca dal tipo di coalizione che si ritrova, voglio dire. Dopodiché sono stato molto lieto che Draghi abbia accettato di prendere questa responsabilità per il Paese. Posso dire che un grandissimo cambio di passo per quanto riguarda gli interventi sulla pandemia non è che l'ho visto, francamente. E senza voler fare contrapposizioni, confronti o assumere posizioni nostalgiche di questo o quel governo che sono lontanissime dal mio sentire. Per quanto vi posso dire, meno male, essendoci vaccini e avendo corretto una serie di palesi, difetti organizzativi, la faccenda vaccini sta andando avanti e sta andando avanti nettamente meglio. Bisogna che vaccini ci possono essere davvero. Poi ancora non siamo arrivati al punto di poter dire con serenità, bene, abbiamo messo in sicurezza tutti quelli che nel momento in cui si infettassero possono andare a finire in ospedale, possono andare a finire anche all'altro mondo. Questo è il primo grande obiettivo. Attenzione, ricordiamoci anche che bisogna fare in fretta anche per un motivo molto importante. Stiamo vaccinando con vaccini basati sul virus che circolava un anno fa e non qua tra l'altro. Attualmente abbiamo, ahimè purtroppo, delle reinfezioni negli stessi vaccinati dati da variante inglese. Le segnalazioni ormai sono parecchie. E quindi non funzionano questi vaccini contro la variante inglese, professore? Non funzionano? No, funzionano. Allora, se dovessi dire dalle numerose segnalazioni recenti, funzionicchiano. Nel senso che comunque fanno quello che è fondamentale. Non ti portano più né in ospedale, né in rianimazione, né in cimitero. Ti fa un'infezione che è un'infezione di modesta entità. Questo è quello che ho visto anche in colleghi, attenzione, cioè in persone relativamente giovani e ben portanti. Questo vuol dire che non stiamo battendoci per l'immunità di greggia in questo momento. Altra cosa che andrebbe capita. Ci stiamo battendo per evitare che la gente ammali gravemente e muoia, facendo vaccinazione a tutto andare. Come prodotto collaterale, andando bene, avremo una minor circolazione del virus. Ma per questo bisogna che il virus perda le occasioni per circolare. Vedi, vi ricordo, c'è qualche dato sperimentale incoraggiante. Ma noi non abbiamo vaccinazioni per quelli dai 16 anni in giù. Non è ammesso di utilizzare questi vaccini dai 16 anni in giù. E l'aggravante specifica è che anche tutti gli altri giovani arriveranno a essere vaccinati per ultimi. Giusto, perché dobbiamo mettere in sicurezza quelli che sono a maggior rischio. Però tutto questo è un processo che ha bisogno di essere fatto il più rapidamente possibile nelle minori condizioni di circolazione del virus. Dopodiché, parole sacrosante, quando si parla che la gente va sostenuta, si dice che la gente va sostenuta, che la gente va aiutata, che da questo punto di vista, facendo comunque un grosso sforzo come paese complessivamente, tocchi essere capace di sostenere chi è stato più duramente colpito dal punto di vista economico da questa malattia. Questo è importante, certamente. E anche in questo non siamo un paese così, come dire, pronto e scattante. L'abbiamo visto nella difficoltà che c'è stata in varie regioni a chiamare i novantenni o gli ottantenni alla vaccinazione, cioè nella parte organizzativa e anche credo per la parte organizzativa dei ristori abbiamo i nostri bravi problemi a quanto pare. Oggi mi trovo un po' su di giri, mi dispiace, ma è una giornata che è stata molto dura da tanti punti di vista e quindi effettivamente dovrò magari tenermi un pochino più sedato. No, no, io penso che una voce della verità faccia sempre bene, anche perché ricordiamolo, oggi i nuovi contagi sono quasi 24.000 e i morti sono 501.